Scopri la star che incontrerà Scooby-Doo in Scooby-Doo and Gets-Woo, tra poco su Boing! Buongiorno, Isla Nubla! Nuovi episodi freschi freschi pronti per voi! Fico! Aiuto! Solo da noi, dinosauri alti! Quelli grossi! Quelli che volano! E guardate che tanti! Assurdo! Dei dinosauri così freschi li trovi solo nei nuovi episodi di Jurassic World! Devo vederlo, altrimenti bastirò! Questa sera alle 20.50 in Prima TV su Boing! Signora, il dinosauro... Signora! Sì, salve! Siamo qua giù, signore! Oh, salve! Hanno lasciato la loro traccia indelebile sin da piccoli! Sì, salve! Hanno vissuto storie da un milione di like! Rivivi tutti i momenti più importanti degli orsi! Iniziando da quando erano... Tre splendidi orsacchiotti! In Siamo Solo Orsi Story! Oggi, dalle 18, su Boing! E sulla Boing App! Amo California Landia! Grazie a tutti!